Diciamo che è un periodo un po' basso, soprattutto di punti, di risultati. C'è poco da dire, siamo in un momento dove ogni mezz'errore lo soffriamo, ogni mezz'errore ci punisce. E' difficile perché adesso, secondo me, è da questi momenti che si vedrà il valore di questa squadra, che sicuramente è molto alto. Perché ne verremo fuori sicuramente da questo periodo, perché è quando si tocca il fondo che è difficile risalire. I risultati sono quelli, non vinciamo da molte partite, però secondo me non è un campanello d'allarme, o meglio, non è un grave campanello d'allarme, della testa di un giocatore e dici, cavolo, come è possibile che prima eravano quelli e adesso siano questi? Poi dopo vai ad analizzare e alla fine questa grande differenza a livello prestativo non è abissale, come si possa pensare. È una differenza dovuta magari a degli episodi, che magari prima eri più bravo a sfruttarli a tuo favore, eri più bravo a accogliere queste occasioni. Adesso pecchiamo in questo, secondo me. È questione di episodi, bisogna solamente continuare a lavorare, continuare così senza farsi film mentali, senza demoralizzarsi troppo. Comunque, come noi arriviamo da un momento no, anche il Palermo comunque arriva da una sconfitta. e poi penso che una società, una squadra come il Palermo abbia qualche pressione in più rispetto a noi, perché è una rosa fatta da zero, è una rosa con delle ambizioni molto grandi, quindi secondo me sono più loro che devono assolutamente fare il risultato, assolutamente vincere. Noi andiamo con grande serenità, Noi andiamo con grande serenità,